Quindi vi dico la verità, io credo che ho fatto il possibile, forse anche l'impossibile. Dopo quattro giorni di sciopero della fame e notti passate a dormire alla diaccio sotto i portici del comune di Pesaro, Andrea Busetto ha vinto una prima battaglia nella sua guerra contro i cinghiali e ha ricominciato a mangiare. Un bel piatto di tortelloni e poi baccalà all'osteria della guercia, a due passi dal presidio, subito dopo la conferenza stampa tenuta con i vertici regionali della Lega. Questa mattina, infatti, il Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio ha telefonato allo stesso Busetto, che si è commosso per le parole di solidarietà, avendo rassicurazioni da parte dello stesso Ministro rispetto a un interessamento diretto del caso per risolverlo il prima possibile. Un sospiro di sollievo che si unisce alle diverse manifestazioni di sostegno arrivate negli ultimi giorni dalle associazioni di categoria degli agricoltori, da diversi imprenditori, tra cui Luca Guerrieri, e da vari amministratori pubblici, tra cui il sindaco di Piobbico, Giorgio Mocchi. Tutti consapevoli degli enormi danni che ogni anno creano i cinghiali alle coltivazioni, causando anche diversi incidenti stradali. Apparentemente il risultato che ho ottenuto, e non ci credevo, è straordinario, perché sono riuscito a far sedere intorno al tavolo l'opposizione in regione, che poi è la maggioranza al governo. Quello che però ancora non si vede all'orizzonte è la soluzione reale del problema, cioè io a casa non ci voglio tornare fino a quando non potrò difendere il mio lavoro, le mie coltivazioni e quelle dei miei vicini che magari sono meno determinati di me, dallo scorrazzare di branche di cinghiali allevati sulla mia azienda da politici vigliacchi e da cacciatori di cinghiali, che sono diversi dai cacciatori, che vogliono fare del territorio dell'Italia centrale un enorme allevamento di cinghiali, che non sono altro che mai riservati, ci hanno stato brato. Spero che tutti gli ambientalisti, i politici per bene, gli agricoltori, il mondo venatorio, i cacciatori per bene, ce ne sono anche di quelli, si coalitino e facciano capire agli amministratori attuali che una situazione del genere è intollerabile. Il sostegno politico ricevuto da Busetto è giallo-verde, considerando che questa mattina in Piazza del Popolo c'erano i segretari provinciali della Lega di Pesaro e Ancona, insieme a Sandro Zaffiri e Marzia Malaijia, ma anche il consigliere regionale 5 Stelle Pier Giorgio Fabri. Ora la palla passa nelle mani dell'assessore regionale alla caccia Moreno Pieroni, che dovrà cercare di districare la matassa una volta per tutte. Sono arrivati in solidarietà diverse associazioni degli agricoltori e anche molti agricoltori che hanno voluto sostenere la causa di Andrea Busetto e credo che sia un segnale forte e chiaro di allarme nei confronti della regione, in maniera tale che queste persone che vivono e tutelano il patrimonio del nostro entroterra, del nostro territorio, non debbano essere lasciate sole o abbandonate.